Sono le strade inesplorate che possono portare a prodotti di innovazione. Il design deve assolutamente saperli percorrere. Al volo nasce come un nuovo prodotto che riesce ad uscire dagli schemi, riesce a portare una nuova dimensione non soltanto nel mondo del gelato, ma anche nella pasticceria e in altri mondi ancora, perché è estremamente versatile. L'idea nasce proprio dal poter trovare una situazione alternativa alla classica gelateria o la classica pasticceria. Qui abbiamo pensato ad un involucro che potesse contenere non solo ovviamente la parte tecnica, ma fosse un grande visore per l'esperienza del prodotto che sta all'interno. Inizialmente è stata pensata per il gelato mantecato all'italiana, proprio perché è una delle bandiere del Made in Italy e credo che proprio questo sia un prodotto che possa assolutamente diventare un nuovo messaggio del Made in Italy nel mondo.